Quattro poliziotti del gruppo investigativo Falcone e Borsellino risponderanno di falsa testimonianza nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio delle indagini dopo la strage di Via D'Amelio. Lo scorso 15 novembre gli è stato notificato dalla procura di Caltanissetta l'avviso di conclusione delle indagini, poi è stata depositata istanza di rinviaggiudizio e adesso è stata incardinata al prossimo 21 marzo. A vento della primavera l'udienza innanzi alla giudice per le udienze preliminari del tribunale nisseno David Salvucci. Sul banco degli imputati siederanno quattro poliziotti Giuseppe Di Ganci, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli che avrebbero dichiarato il falso deponendo come testimoni nel corso del processo di primo grado sul depistaggio delle indagini dopo la strage di Via D'Amelio contro Paolo Borsellino. I dettagli. A fianco del processo in accorte d'appello a Caltanissetta presieduta da Giovanni Battista Tona a carico dei poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo assolti nel primo grado tra merito e prescrizione dall'imputazione di calunnia aggravata dall'avere agevolato la mafia vi è tale altro procedimento. A carico dei quattro poliziotti anche loro parte del gruppo investigativo Falcone e Borsellino lo stesso in cui hanno militato Bo, Mattei e Ribaudo capitanati dal defunto questore Arnaldo La Barbera ossia il gruppo di Sarti che, secondo i magistrati inquirenti avrebbero vestito su misura e confezionato il falso pendito Vincenzo Scarantino punta del compasso del depistaggio Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca e il sostituto Maurizio Bonacorso intendono processare Zerilli, Di Gangi, Maniscaldi e Tedesco contestando il reato di falsa testimonianza E perché? Perché nel processo di primo grado sul depistaggio attualmente in appello i quattro poliziotti sono stati ascoltati dal tribunale e avrebbero dichiarato il falso sotto giuramento Il collegio giudicante preseduto da Francesco D'Arrigo nelle motivazioni della sentenza di primo grado tra l'altro ha scritto L'ispettore Maurizio Zerilli ha risposto con 121 non ricordo e non su circostanze di contorno e reticenze troppi non ricordo più di 100 sono addebitati anche all'ispettore Angelo Tedesco e poi 110 sono recriminati al suo collega Giuseppe Di Gangi e sul quarto, Vincenzo Maniscaldi, i giudici hanno scritto non si è trincerato dietro ai non ricordo ma si è spinto a riferire circostanze false Dunque i giudici di primo grado hanno trasmesso i verbali alla procura affinché procedesse per ipotesi di falsa testimonianza e così è stato Peraltro i quattro convocati in procura si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Nel frattempo al processo di secondo grado sul depistaggio la procura generale di Caltanissetta ha depositato un documento inedito si tratta di una relazione di servizio redatta dallo stesso poliziotto Maurizio Zerilli in cui sono descritti alcuni sopraluoghi compiuti da lui e da Vincenzo Scarantino La relazione, condata primo luglio 1994, è stata trovata con 29 anni di ritardo e solo per caso Il ritrovamento risale al 5 ottobre scorso durante il trasloco degli uffici della squadra mobile di Palermo Un agente ha notato un fascicolo con su scritto Gruppo Falcone e Borsellino Il documento descrive i sopraluoghi di Zerilli e Scarantino il 28-29 e 30 giugno 1994 nei pressi, tra gli altri, della carrozzeria di Giuseppe Orofino dove sarebbe stata custodita la Fiat 126 rubata l'autobomba e i relativi verbali sono infarciti di incoerenze e contraddizioni già accertate processualmente e che adesso saranno rilanciate la ribalta del Dipartimento Istruttorio d'Appello Grazie